Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. L'indice R-T abruzzese è il più alto d'Italia. Avanza la variante delta ma la pressione ospedaliera rimane a livelli non preoccupanti. Ad inizio della prossima settimana si riunirà la cabina di regia ministeriale e si decideranno eventuali nuove restrizioni. Il servizio di Giuseppe Dintino. RT record in Abruzzo che ora rischia seriamente di tornare in zona gialla. La nostra regione tra le candidate a subire nuove restrizioni insieme a Sardegna, Sicilia, Veneto, Campania e Lazio. L'indice di contagiosità in Abruzzo è il più alto di tutta Italia, attestandosi a 1,21. Lunedì o martedì, quando si riunirà la cabina di regia ministeriale, si decideranno eventuali cambi di colore. Il ministro Speranza sembra intenzionato ad accogliere la richiesta dei governatori di cambiare i parametri, a pesare non sarà tanto l'incidenza del virus, quanto piuttosto la pressione ospedaliera. In Abruzzo la situazione negli ospedali è ampiamente sotto controllo, come ha detto ieri sera il presidente Marsilio, a margine dell'unità di crisi regionale. Nei piccoli numeri l'RQT non ha veramente quasi alcun valore. Per paradosso un posto in cui magari per 10 settimane si ammala una sola persona, se un giorno se ne ammalano due è l'RQT pari a 2. Quindi questo non significa assolutamente niente. Il dato vero che dobbiamo sottolineare e continuare a dire è che noi abbiamo l'1% di occupazione post diretto in terra via intensiva e il 2% in area media. Quindi siamo praticamente ai minimi termini da quel punto di vista. Il problema del Covid è sempre stato questo. Dobbiamo modulare le eventuali azioni di restrizione sul tema dell'impatto sugli ospedali. In Abruzzo 16 contagi ogni 100.000 abitanti, ben al di sotto quindi della soglia di 50, oltre la quale scatta la zona gialla. Inoltre prosegue la campagna vaccinale. Sono circa 100.000, ha detto il governatore, le somministrazioni ogni giorno. La circolazione del virus in Abruzzo è veramente molto, molto limitata. La vaccinazione continua ad andare avanti spedita, l'Abruzzo continua ad essere dalle prime regioni in Italia dalla campagna vaccinale, sopra la media nazionale. A preoccupare soprattutto l'avanzata della variante Delta, che ora in Abruzzo è responsabile di due contagi su tre. È anche vero però che qui si è efficienti nell'individuare la sequenza del virus, grazie ai laboratori dell'Università d'Annunzio e all'Istituto Zoprofilattico di Teramo. Il timore comunque è che la curva dei contagi torni a salire rapidamente. Tra qualche giorno i numeri ci diranno se i festeggiamenti per la storica vittoria della nazionale di calcio agli europei hanno avuto o no un impatto sulla diffusione del Covid. Rispetto alla scorsa settimana abbiamo fatto esattamente lo stesso numero di contagi, quindi non c'è nessuna crescita verticale. Naturalmente non possiamo escludere che magari anche a causa degli europei, dei grandi festeggiamenti e assembramenti che si sono creati. Nei prossimi giorni ci possano essere ulteriori fiammate. Siamo al bollettino Covid. Oggi in Abruzzo 34 nuovi positivi di età compresa tra 9 e 77 anni, 10 della provincia dell'Aquila, 7 della provincia di Chieti, 4 dalla provincia di Pescara, 11 della provincia di Teramo 1 con residenza in fase di accertamento. Eseguiti 2.403 tamponi molecolari e 3.732 test antigenici con un tasso di positività che è pari allo 0,55%. Non si registrano nuovi deceduti, ci sono 18 dimessi guariti, mentre salgono di 15 unitagli attualmente positivi che ora sono 939. I ricoverati in area medica sono 22, meno 3 rispetto a ieri. Un ricoverato in terapia intensiva, dato invariato, 916 in isolamento domiciliare, più 18 rispetto a ieri. Cambiamo pagina nel corso dell'illustrazione del bilancio 2020 della TUA, la società che gestisce il trasporto pubblico in Abruzzo. Il direttore generale Max Millian di Pasquale ha tenuto in modo particolare a ringraziare tutti i dipendenti che nell'anno più difficile a causa della pandemia non ci sono mai tirati indietro, garantendo ogni giorno un servizio efficiente. Stefano Recanati. Soddisfa sia i vertici tua che quelli della regione Abruzzo, il bilancio 2020 approvato dall'azienda che gestisce il trasporto locale nella nostra regione. I numeri, a differenza degli anni passati, vanno interpretati guardando alle contigenze che si sono verificate, ovvero alla pandemia che nel 2020 ha portato ad una riduzione di ricavi da traffico di circa 13 milioni di euro. L'azienda, come conferma il direttore generale Max Millian di Pasquale, è stata pronta a ridurre le spese per un importo quasi equivalente e con l'aiuto degli indennizi varati dal governo e dalla stessa regione Abruzzo è riuscita a chiudere il bilancio con un leggero utile. Ciò però ha determinato una contrazione di costo sul personale che lo stesso direttore si sente di ringraziare. Ringraziamo anche i lavoratori che hanno capito il momento particolare e si sono resi disponibili sia a lavorare in condizioni obiettivamente rischiose perché per un certo periodo portare le persone veniva individuato come un rischio e sia ad accettare alcuni sacrifici quali a titolo esemplificativo la cassa integrazione e il blocco dello straordinario. La cassa integrazione comunque è stata utilizzata al minimo poiché l'azienda era già arrivata pronta a questo appuntamento che non era un appuntamento che si è fatta trovare pronta per questo imprevisto in quanto aveva già avviato un'opera di efficientamento e di riduzione dei costi attraverso la ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro e l'avvio delle subconcessioni. Abbiamo ridotto i costi per servizi e nonostante questo abbiamo dato seguito al piano degli investimenti senza far rinunciare l'azienda e con essa il territorio abruzzese allo sviluppo che era stato pianificato in termini pre-covid. La tua in questo anno particolare ha permesso alla Regione Abruzzo di essere la prima in Italia ad avviare il doppio ingresso nelle scuole per garantire il servizio anche in situazione di capacità di mezzi ridotta. Siamo riusciti a fare questo con una nuova organizzazione di lavoro pensata in meno di un mese con l'asilo di personale assunto con modalità più agili e anche, ripeto, con un consenso e un supporto interno che nonostante qualche momento di non di frizione ma di richiesta di spiegazioni di un minimo di tensione è stata accettata dal personale e ci ha consentito di andare avanti. Abruzzo rivede stata la prima Regione ad avviare il doppio ingresso ed è stato un modello anche per altre Regioni. La cronaca due fratelli trentenni residenti a Lanciano sono stati arrestati dalla squadra mobile di Chieti sono accusati di violenza privata e lesioni personali plurie e gravate in concorso ai danni di un 39enne i fatti risalgono all'aprile scorso quando l'uomo prima di prendere parte una delle gare ippiche ufficiali in programma all'ippodromo di San Giovanni Tiatino fu avvicinato da alcune persone tra le quali i due fratelli che pretendevano che il Fantino non partecipasse alla corsa al suo rifiuto lo hanno colpito violentamente una tempia facendolo cadere poi con calci al volto e alla schiena. L'immediato intervento del personale in servizio di vigilanza evitò che venissero inferti ulteriori colpi al 39enne finito poi in ospedale con traumi al corpo e al volto nonché fratture alle costole con prognosi complessiva di oltre 60 giorni l'indagine condotta dalla squadra mobile con analisi delle immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'ippodromo ha consentito di raccogliere importanti elementi di prova a carico dei due arrestati con alcuni precedenti. Presentato questa mattina l'evento Quale città, identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza che si terrà all'Aurum di Pescara il prossimo 23 luglio l'evento è stato fortemente voluto dal senatore Luciano D'Alfonso e vedrà la partecipazione fra gli altri del presidente del senato Casellati. Vediamo. Si chiama Quale città, identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza l'evento organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso e che si terrà il prossimo 23 luglio all'Aurum di Pescara. Quale città sarà una giornata dedicata a immaginare e a ragionare sulla vocazione, le funzioni ed il destino delle città ed è stata concepita anche come una prima risposta alle nuove esigenze emerse nel corso della pandemia che ha completamente rivoluzionato il modo di vivere e le aspettative dei cittadini. Tante le personalità presenti, fra cui il presidente del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. È necessario tornare a riflettere sulla città. Il titolo di questo grande evento è appunto Quale città? Riflettendo su come la città deve riorganizzarsi per rispondere ai bisogni nuovi che hanno i cittadini. Quale deve essere l'identità della città? Perché abbiamo visto che si è creato il problema dello spazio, il problema dei rapporti, il problema delle funzioni. E allora abbiamo pensato di creare un grande evento in collaborazione con l'università, con le riviste, con architetti, con intellettuali, con docenti universitari, con altissime personalità delle istituzioni, la Presidente del Senato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tantissime personalità del mondo istituzionale per ragionare appunto su cosa sia necessario fare per assicurare le nuove funzioni alle città. La città è sempre di più la forma principale in cui vive l'uomo, ma ne abbiamo conosciuto nuovi limiti. Nuovi limiti per noi significano anche nuove opportunità su cui bisogna confrontarsi, cioè bisogna far allenare il pensiero, perché questo è un momento non solo di spendere risorse, ma è anche e soprattutto un momento per pensare a nuove norme, a nuove forme organizzative che sappiano precorrere le esigenze, perché poi una delle finalità delle classi dirigenti non è solo quello di rispondere oggi per oggi ai bisogni che i cittadini hanno, ma anche auspicabilmente nel confronto con coloro che ragionano, che riflettono, che sanno intuire a quelli che saranno i bisogni di domani e per questo motivo c'è bisogno di occasioni lunghe di pensiero e quella di quale città è un cantiere che si apre il 23 luglio e che conoscerà nuove e altre occasioni già a settembre, avremo un altro grande evento con il Sindaco di Barcellona, ma di questo poi parleremo meglio in altre occasioni, è solo per dire che questo è l'inizio di un percorso. Importante riconoscimento per l'ex Sindaco e attuale Assessore del Comune di Pescara Luigi Albone Mascia, a cui verrà conferita la cittadinanza di Gardone Riviera, dove si trova il vittoriale degli italiani di D'Annunzio e il sigillo a un rapporto di amicizia, oltre che di collaborazione istituzionale e culturale, che da più di dieci anni lega il Comune di Pescara a quello di Gardone Riviera, all'impegno sociale e di promozione artistica che Luigi Albone Mascia da Sindaco ha avviato per riallacciare la figura e la memoria di Gabriele D'Annunzio alla sua città natale. Per me è un riconoscimento di grande importanza, ha affermato l'Assessore Mascia, che non esalta solo l'impegno delle istituzioni, ma quello dell'uomo. Alla cerimonia che si terrà lunedì 19 luglio sarà presente anche il Sindaco di Pescara, Carlo Masci. Legambiente ha presentato un focus sulle spiagge italiane, aumentano le concessioni in Abruzzo, mentre resta il problema dell'erosione costiera. Paolo Renzetti. Aumentano del 12,5% le concessioni balneari, preoccupa l'avanzare dell'erosione costiera e i tratti di costa non balneabili. Decisi incrementi si registrano anche in Abruzzo, con un salto degli stabilimenti da 647 nel 2018 a 891 nel 2021, mentre prosegue la scarsa trasparenza sulle concessioni e il nervo scoperto dei canoni irrisori. Questi in sintesi alcuni dei risultati del report spiagge del 2021, redatto da Lega Ambiente che ha fotografato quella che è anche la situazione delle spiagge abruzzesi. L'Abruzzo è in linea con quelle che sono la maggior parte dei territori italiani, un po' al di sopra della media ma non si discosta troppo. Le maglie nere fortunatamente in questo momento per noi sono altre ed hanno dei valori molto più alti dell'Abruzzo. L'Abruzzo comunque ha un 48% di scosta sabbiosa occupata dalle concessioni, ma ci sono regioni che arrivano addirittura a un 70%, quindi ci rendiamo conto di quanto in realtà abbiamo lavorato per preservare comunque una fruizione in qualche modo ancora libera e democratica delle nostre coste. Possiamo migliorare ancora, però comunque parte del lavoro è stato fatto ed è stato garantito. È vero che negli ultimi tre anni abbiamo avuto un incremento delle concessioni, però è anche vero che ad esempio la nostra regione è tra quelle che hanno legiferato per garantire anche se con una percentuale non molto alta, che almeno un 20% di coste venga mantenuto libero, quindi ad uso spiaggia libera. È vero che comunque stiamo continuando a lavorare perché queste coste libere siano comunque garantite balneabili e soprattutto ci sia una sinergia tra i tratti di arenile in concessione e le spiagge libere. È importante che all'interno di questo percorso ci sia un quadro nazionale che vada nella direzione di creare un piano di attivamento e resilienza climatica, soprattutto per combattere il tema dell'erosione, ma dell'innalzamento delle acque, perché ci sono delle realtà anche in Abruzzo e Pescara è una di queste insieme con la foce del sangue e del tronto, dove questo rischio è alto, quindi bisogna mettere in campo una strategia complessiva che vada in questa direzione, non bisogna spaventarsi dell'opportunità di andare anche a bando, perché significa ridare anche dignità e qualità a quei servizi, la sostenibilità deve essere al centro, non possiamo permetterci una situazione che esiste solo in Italia, tutto il resto del mondo, non solo l'Europa la sta attraversando e la sta superando con delle soluzioni, noi continuiamo a rimanere nello stallo, oggi anche per le sfide del piano nazionale di ripresa e resilienza non possiamo più permetterci di rimanere inerti, vanno fatte le scelte con coraggio nella giusta direzione che è quella della sostenibilità. Compie vent'anni il gemellaggio tra Città Sant'Angelo e Nicolosi, comune in provincia di Catania, la ricorrenza è stata celebrata dai due sindaci nel pomeriggio nel centro angolano con una firma su una pergamena e l'apertura di una mostra dedicata alla pietra lavica ceramizzata all'interno del chiostro francescano, vediamo. Sindaco Perazzetti, il Covid ferma dall'Etna al Gran Sasso, ma non ferma questo gemellaggio che anzi si rafforza per questo importante ventennale, il gemellaggio con Nicolosi. Assolutamente sì, proprio questo Covid ha fermato la manifestazione dell'Etna al Gran Sasso, ma non ha fermato assolutamente l'unione che unisce le due comunità, che si rafforza oggi con la firma nuovamente del ventennale del gemellaggio e auspichiamo soprattutto un prolungamento di questo gemellaggio con nuovi progetti che sveleremo più tardi con i due sindaci, i due sindaci daranno le prospettive future che le due comunità oggi danno per poter proseguire questo gemellaggio che ha portato tanti frutti, sia per Nicolosi che per gli angolani. Noi abbiamo alcune zone della nostra città che hanno peculiarità della regione siciliana, così come la regione siciliana, così come la città di Incolosita ha delle peculiarità nostre, quindi questa permeabilità delle due culture deve continuare assolutamente. Il ventennale, quindi diventa più che maggiorenno un gemellaggio che è iniziato nel 2001, che è iniziato dapprima con un incontro delle confraternite, che è stato portato avanti devo dire greggiamente dai sindaci precedenti che si sono succeduti in queste cose. Il Covid purtroppo ha dato una botta d'arresto non solo alla manifestazione, ma anche un po' all'economia di tutti i nostri paesi, le due cittadine. Però ciò non toglie che abbiamo cercato di mantenere quello che è lo scambio culturale, i nostri prodotti tipici. Questa mostra che vediamo è un po' il simbolo della vostra terra, uno dei simboli della vostra terra. Quello che vedete invece è la pietra avrica ceramizzata che è una cosa, un prodotto del maestro Babbo Messina, anche la tecnica di ceramizzazione e poi è anche un prodotto della nostra scuola di ceramizzazione con le allieve che ogni anno producono e vedono di andare verso un obiettivo artistico differente per non essere sempre ripetitivi. Sì, è stata un'ottima occasione per tornare a Città Sant'Angelo, invito tutti quelli che possono da oggi per una settimana a venire qui, oltre a scoprire o a riscoprire se lo conoscevano già un borgo autentico tra i più belli d'Italia, c'è questa mostra di nostra che espone una novità, una novità particolare, poco conosciuta di ceramica fatta su pietra avrica, con dei colori molto vivaci, molto gioiosi, una ricerca anche molto raffinata sull'identità etnea e sulla storia, le tradizioni del luogo, come sposare bene le tradizioni con i materiali del posto e quindi per una terra come l'Abruzzo che è anche terra di ceramiche prestigiose, questo scambio culturale e questo gemellaggio è quanto mai opportuno. Tanta partecipazione di pubblico per le tre serate del Festival Oltre le Parole che si è tenuto a Montesilvano ed è stato organizzato dall'associazione Oltreleparole.net. Vediamo. Il 14 luglio è stata la giornata conclusiva del Festival Oltre le Parole Kermesse letteraria che si è tenuta a Montesilvano. L'evento è stato fortemente voluto dal sindaco Ottavio De Martinis, dagli assessori alla cultura e alle manifestazioni Sandra Santa Venere e Deborah Comardi, dal consigliere comunale Marco Forconi unitamente al direttore artistico del Festival, lo scrittore e docente Marcello Nicodemo. Dopo mesi trascorsi in presentazioni di libri via streaming, tanti gli autori presenti alla manifestazione, tra cui Luigi Leonardi, autore de La Paura non perdona. Leonardi che da diversi anni vive sotto scorta dopo aver denunciato gravi reati estorsivi di matrice camorristica a cui il sindaco De Martinis ha attribuito un'onorificenza per il suo coraggio e per il suo prezioso esempio. A salire sul palco di Largo Venezuela nella serata conclusiva in Mavitelli che nel suo libro La guerra di Nina parla della guerra in Siria e una storia d'amore. Siamo bombardati da immagini perché i social ci fanno vedere immagini tremende di bambini, di madri, di persone ridotte nella loro disumanità e alla fine invece quello che mi muoveva nel romanzo era quello di restituire umanità, dignità alle vittime, agli oppressi e che quel bambino che magari ho incontrato in Siria poteva essere il figlio di ognuno di noi. Il protagonista di un romanzo è appunto un bambino che si chiama Gualid, volevo restituirgli una storia, una storia con cui ognuno di noi poteva identificarsi e magari capire che cosa c'è dietro un'immagine di un bambino che ci guarda, che piange, che è scioccato magari dopo un bombardamento, a cui noi ci siamo a suoi fatti e non va bene che noi ci siamo a suoi fatti a immagini così estreme. Il Città Sant'Angelo Music Festival, giunto alla sua sesta edizione, torna anche quest'anno con la messa in scena dell'opera lirica Don Pasquale di Gaetano Donizetti. L'evento avrà luogo presso il Giardino delle Clarisse domani, dopodomani e martedì. Il progetto è curato dal maestro Alessandro Mazzocchetti, direttore artistico della manifestazione. Vediamo. Sesta edizione di Città Sant'Angelo Music Festival, Alessandro Mazzocchetti, direttore d'orchestra, di che cosa si tratta? Il Città Sant'Angelo Music Festival è una manifestazione di musica classica, quest'anno di opera lirica, in particolare il Don Pasquale di Donizetti, che parte domani, tre serate, 18-19 e 20 luglio, a Città Sant'Angelo, al Giardino delle Clarisse. Nello specifico, appunto, il titolo di quest'anno è il Don Pasquale di Donizetti, nella regia di Manuel Renga, che ha riambientato l'opera negli anni 20-30 del proibizionismo americano, quindi vedrete tutta una scenografia molto particolare e molto bella, a mio parere, all'interno del Giardino delle Clarisse. La compagine orchestrale sarà l'orchestra del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Con noi avremo un cast d'eccezione, nel ruolo del titolo il Matteo D'Apolito, quindi nel ruolo di Don Pasquale, nel ruolo di Ernesto Matteo Mezzaro, nel ruolo di Malatesta Guido Dazzini. Due studentesse del Conservatorio faranno il ruolo della protagonista femminile di Norina, nel dettaglio Claudio e Nicol Calabrese, nelle date del 18-20 e Jessica Ricci, nelle date del 19. A chiudere il cast, il notaio di Valerio Morelli, un altro studente del Conservatorio di Pescara. Ecco, ingresso a pagamento con biglietti che possono essere acquistati sui circuiti comunque dei bar e tabaccherie del paese. Sì, o anche scrivendo alla mail csimusicfestival.gmail.com Come va allora nel post pandemia questi eventi? State ripartendo? Si soffre? Qual è la situazione adesso? Ma innanzitutto siamo veramente contenti di essere riusciti a ripartire perché la situazione è, sappiamo tutti quella che è. Noi ce l'abbiamo fatta, prima di cantare Vittorio ovviamente aspettiamo la fine delle tre recite, però sicuramente siamo contenti e soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Poi adesso il giudizio sarà del pubblico che spero accorrerà numeroso queste tre serate. Sant'Angelo è ricca di scorci meravigliosi e di punti veramente scenografici e adatti a tutti i tipi di musica, dalla musica da camera, alla musica lirica, alla musica sinfonica. Noi abbiamo scelto il giardino delle Clarisse, cambiando un po' l'orientamento naturale del giardino per sfruttare un balcone che diventerà poi la casa di Don Pasquale, quindi veramente è molto legato alla location, alla nostra scenografia. Ancora cultura, nel prossimo servizio parliamo del nuovo libro di Dom Serafini, i messaggeri d'Abruzzo nel mondo, volume 2, vediamo. Questo libro, anche il primo, questo tipo di libro ha due caratteristiche. Il primo è quello di insegnare ai giovani, per ispirare i giovani a come fare per avere successo all'estero perché ci sono personaggi di qualsiasi lavoro, qualsiasi professione che uno possa immaginare. Quindi se uno dice, voglio avere successo all'estero, come faccio? Io sono cuoco, sono professore, sono insegnante, sono ricercatore. Qui possono trovare idee, possono trovare ispirazione per come avere successo all'estero. Il secondo elemento importante di questo libro è che mentre i nostri amministratori regionali devono promuovere l'Abruzzo all'estero, il mio compito è quello di promuovere, di far conoscere gli abruzzesi in Abruzzo perché questi sono personaggi molto famosi all'estero e in qualsiasi paese ma non sono conosciuti in Abruzzo, quindi è importante che gli abruzzesi conoscano questi personaggi, questi abruzzesi che il lavoro non ha avuto successo all'estero. Non posso dire che c'è un personaggio che mi piace più dall'altro, veramente sono tutti fantastici e non è facile descriverli perché hanno un curriculum enorme, io devo condensare una vita in 40 righe, quindi la parte difficile è cercare di condensare, di trovare quegli elementi che li rendono vivi, che li rendano come sono, esprime il loro successo, l'articolo e il libro sia in grado di descrivere quello che fanno, come hanno fatto e non è facile perché lo spazio dedicato nella rubrica dominicana è molto piccolo e naturalmente dopo viene riflesso anche nel libro. Lo sport nella scorsa stagione causa Covid il Pescara ha svolto l'intero precampionato al Poggio, quest'estate invece i biancazzurri sono tornati a Palena e per il sindaco Claudio De Miglio la presenza della squadra è un segnale di ripartenza per il paese e il comprensorio, vediamo. Sindaco Claudio De Miglio, Palena torna ad accogliere il Pescara per questo raduno della stagione 21-22, è tutto pronto? È tutto pronto, è una bellissima gioia avere qua di nuovo il Pescara, soprattutto in virtù della bellissima vittoria della nazionale che ci ha fatto gioire con gli europei, quindi ripartire una ripartenza di tutta la nazione e anche di Palena, quindi il Pescara a Palena sì, una bella ripartenza, tutto pronto, speriamo che le cose saranno veramente per il meglio per il Pescara che ne ha proprio bisogno. Ecco lo scorso anno a causa Covid il Pescara non è stato a Palena e non è andata bene, possiamo dire che Palena potrebbe tornare a portare bene come è successo negli anni passati? Noi ce la mettiamo tutta e mi auguro che anche la sorte e il destino faccia lo stesso, il calcio è un gioco quindi purtroppo ci può stare anche la sconfitta, speriamo che questo non accada e sia veramente buon auspicio affinché il Pescara vada veramente avanti perché una regione Abruzzo ha bisogno di una squadra importante come il Pescara, quantomeno in Serie B. Cosa significa avere nuovamente il Pescara nel suo comune? Significa avere movimento, significa far sì che gli alberghi, i ristoranti, i bar, tabaccheri e quant'altro finalmente rivedano un po' di movimento in questo, come dicevo poco fa, per questo periodo di pandemia così brutto che abbiamo vissuto tutti. Ecco nel frattempo Palena ha anche conquistato la bandiera arancione che mi sembra sia un importante traguardo per una località come questa. Siamo uno di quei comuni che l'ha mantenuta per ulteriori anni fino al 2023, tanto è vero che futuristicamente avremo anche una bella manifestazione sulle bandiere arancione, la bandiera arancione vuol dire tutto, vuol dire avere accoglienza, vuol dire avere turismo, vuol dire avere un'ottima raccolta differenziata, vuol dire una serie di fattori ma soprattutto grazie ai cittadini che permettono di avere questo borgo così bello e pulito. Come vanno le cose qui nel comprensorio, siamo nel mezzo della stagione estiva, lei prima parlava di ripartenza proprio legando questo periodo all'arrivo del Pescara, ma come vanno le cose? C'è stato fortunatamente una buona ripresa, anche noi abbiamo vissuto come cittadini un periodo particolare come ha vissuto tutta la nazione, fortunatamente ne approfitto di fare un appello al vaccino, il vaccino è veramente importante, il vaccino aiuta tanto fisicamente e psicologicamente, questo significa vivere in tranquillità e in piena libertà la propria vita e riprenderci i propri spazi. Intervenuto alla serata di gala del premio Carmine Rodomonti, il presidente del Teramo Iachini ha disegnato l'identikit del prossimo allenatore, vediamo. Il Teramo anche quest'anno dopo i due anni più difficili del calcio si è iscritta al campionato, è sicuramente una squadra competitiva che la temono già in tanti, abbiamo visto che i blasoni più importanti di Teramo hanno avuto una sfortuna a non essere iscritti e quindi vediamo come andrà. Ma per quanto riguarda l'allenatore e il direttore sportale? Ancora non c'è nulla. Quando dovranno aspettare ancora i tifosi? Il problema non è che devono aspettare loro, il problema è che aspetto io perché non è facile fare una scelta su un campionato così difficile perché è un campionato che dovrà vedere una competizione ancora più particolare perché non c'è solo l'ambizione di arrivare al primo posto, c'è l'ambizione di arrivare in una determinata posizione per poter centrare se sarà confermata al prossimo Consiglio federale la riforma del campionato, quindi è veramente un campionato importante. Prima di lasciarla un profilo giovane stile Paci che si avvicina al prima volta al campionato di Serie C o un profilo più esperto? No, stile Paci assolutamente. Serie D, Simone Bernardini, il nuovo direttore generale del Notalesco, 47 anni, nativo di Ascoli. Bernardini ha ricoperto questo ruolo a Teramo nell'era Campitelli e successivamente a Giulianova. Nelle ultime tre stagioni è stato direttore generale a Fano dove ha avuto come allenatore anche Massimo Epifani che ora ritrova a Notalesco. Entra a far parte del nostro organigramma un noto e stimato professionista, ha dichiarato il Presidente Di Giovanni. Sono felice che abbia scelto di sposare il nostro progetto. Sono contento di essere venuto in una società che ha dimostrato di avere sempre dei connotati professionistici. Le prime parole del neodirettore generale Rosso Blu. Ringrazio la proprietà, il Presidente Salvatore Di Giovanni e i Vice Presidenti Diego Ferrante e Luigi Di Battista. E chiudiamo qui questa seconda edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul nostro sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.